Io ho letto che qualcuno aveva dubitato che ci fosse una specie di ripicca o una specie di azione vendicativa nei confronti di Zerischi, assolutamente no, perché Zerischi l'ho già affermato più volte nel passato, è una splendida persona, un bravissimo ragazzo, un giocatore di livello, però poi ripeto, le scelte sono state fatte, visto che lui è in uscita, perché poi dal primo di luglio non sarà più con noi, noi dobbiamo francamente aprire una finestra su quelle che sono le possibili opportunità di entrata e quindi se confermarle, se portarle avanti, noi abbiamo Traoré che ha delle opzioni per poter continuare, riscattandolo, la stessa cosa per il centrocampista che purtroppo non c'era posto nemmeno per lui, quindi abbiamo dovuto sacrificare pure lui. Poi ho sentito dire, perché poi è vero che si devono riempire i media di notizie, però c'è sempre quella nota un pochettino malevola che mi crea non malinconia, ma melanconia, che è un po' diversa, perché mi fa anche sorridere a volte, dove si dice, ma come aveva promesso De Laurentiis, più cambi il famoso difensore che mancava, ho sentito parlare addirittura di giocatori di piede sinistro, allora perché era, si pensava in uscita ostica, poi mentre io stavo appresso a un giocatore che era venuto fuori prepotentemente nel Genova, e il Genova ha trattato con me, per Dragosin, dove io, questo dice il Genova, ho fatto un'offerta superiore a tutti gli altri, però il giocatore ha preferito al Napoli e al Bayern Monaco andare in Inghilterra, perché l'Inghilterra è sempre una meta indiscutibilmente per chiunque, irrinunciabile, e allora a quel punto lì abbiamo detto, qui serve secondo il mister uno veloce e non uno rapido, perché c'è differenza tra uno che è rapido e uno che è veloce. Allora a un certo punto avevamo ripiegato su il signor Perez, io ho fatto un incontro a Napoli all'hotel, che è la mia base Britannique, con Gino Pozzo, che è venuto molto carinamente e molto gentilmente. Dopo tre ore di discussione ho detto, senti Gino, io devo andare a trovare il Silla, nemmeno più sindaco, il commissario lì a Castellammare, perché voglio vedere se trovo una situazione per la nuova casa del Napoli, però ho visto che è un casiere di traffico e le cose, lasciamo perdere, andiamo all'altra parte. Però sono scappato via e prima di scappare via ho detto, senti Gino, facciamola finita, io ti do 18 milioni all inclusive. Poi a un certo punto vengo raggiunto, dai miei dicono no, ma lui vuole che si paghi a chi è cresciuto negli anni 700 mila euro, poi al procuratore 500 mila euro, ho detto sentite ma avete rotto i coglioni, non si fa più nulla. Nel frattempo per due partite il signor Mazzari si era messo a tre dietro, rivalutando anche Ostigar. Allora io dico scusate mi è meglio andare a comprare un giocatore che poi magari quest'estate se debbo rimodulare in un altro modo la difesa me lo trovo là e invece se Ostigar che è un bravissimo ragazzo, un bravissimo giocatore, lo volevano comprare per 10 milioni, dico ma qualche cosa varrà, no? Cerchiamo di utilizzare quelli che abbiamo. Dopodiché abbiamo comprato addirittura un centrocampista che può svolgere anche il ruolo, e lo ha fatto, del difensore centrale. Poi c'è un'altra cosa che dobbiamo chiarire, perché io vi sento dire ma che cazzo avete comprato un giocatore che è un trequartista quando serviva uno che giocasse o a destra o sinistra, al posto di Politano o al posto di Quara. Il signor Lindstrom ha fatto la bellezza di 23 partite, non nel Napoli ovviamente, sia in Nazionale che con l'Entracht dove giocava come ha la destra. Punto. Poi ha fatto 19 partite dove ha giocato come trequartista, però sono più quelle che ha giocato come alla destra, che come, eh? Poi ha fatto come centrocampista a destra, di inserimento a destra, una e a sinistra tre. Questa è la verità, perché poi bisogna che vi documentiate, perché se no io mi sono stancato di sentire dire ma chi cazzo hanno comprato? Serviva una alla destra, hanno comprato un trequartista. È chiaro il ragionamento? No, perché poi bisogna essere anche leciti, cioè se si deve collaborare tra media e chi sta da quest'altra parte, anche perché noi siamo dentro, cioè noi vediamo tutti i giorni, conosciamo il carattere, la fisicità, lo stato di quel momento fisico eccetera, voi state dall'altra parte, allora sarebbe bene che ogni tanto ci si concertasse. Era dovuta questa conferenza per Mazzarri perché è dopo il mercato, la chiusura del mercato, però è mia intenzione, ma non come atto chissà rivoluzionario di che cosa, è di non fare più le conferenze stampa pre-partita, perché nel momento della pre-partita l'allenatore è lasciato in pace, cioè quello ha già tante così considerazioni da dover prendere, poi di che vi deve parlare? Mica vi può dire come schiererà la squadra, no? Non ve lo può dire, no? Non dobbiamo dare dei punti di riferimento a controparte, giusto? Bene, io sono anche contrario, ma questi sono i miei colleghi della Lega perché la Lega di calcio è un disastro, un cumulo di incapacità totale, va bene? Perché il fatto che venda alle televisioni, il fatto di fare entrare le telecamere all'ultimo momento quando quelli stanno nello sfogliatoio con un testicolo mezzo dentro e mezzo fuori, tutti concentrati, gli vanno a rompere le scatole per vedere che? Per fare cosa? Per vendere che cosa? Qual è la spettacolarità di questo sacro momento? Cioè solo la stupidità di chi vende le cose alla televisione, va bene? Poi ha venduto anche il dopo partita, ma dopo partita uno ha certi problemi per capello, che non è l'allenatore di una volta, e dico ma io perché devo venire a parlare della partita? Io devo ritornare a casa, mi devo rivedere la partita in televisione e il lunedì si fa un bel per tu con tutti quanti e uno dice ecco allora parliamo della partita di ieri, allora ha un senso, no? Ma che vuol dire? Cioè dopo che io ho fatto vedere partite in televisione di tutti quanti, di questo, anche degli altri campionati europei perché ormai viviamo solo di calcio, ti devo anche far sentire delle cose che sono poi sempre le stesse, no? domande uguali, risposte più o meno diplomatiche, anche quando uno vorrebbe dire cose che magari non può dire, invece il giorno dopo, con la calma, uno ha visto la partita, ha capito i punti forti, i punti deboli, se ci sono stati dei problemi arbitrali o non arbitrali, e uno se ne è reso conto meglio, invece se uno esce, va lì, ma lei cosa... perché poi voi siete dei gran paraculi, fate proprio le domande ad hoc perché cercate di tirar fuori la situazione un po' scandalosa per colpire nel segno e vendere di più.